Com'è andata questa giornata? Ma sì, è andata bene. Sinceramente pensavo peggio perché non era la prima volta che venivo a vedere un Open Day. Ce n'era stato uno anche con Cossiesia, però ci avevano dato informazioni molto, molto, cioè così, alla buona. Invece no, è stato comunque interessante. Hanno dato una presentazione generale e poi hanno spiegato corso per corso, quindi ci siamo tanti anche io e mi sono stata un po' di dubbi. Quali informazioni importanti avete ricevuto? Che, come è strutturata l'università, i tipi di esami, il fatto che è finita la laurea triennale, poi fare i master, lauree magiscali, tutte queste cose. Avete intenzione di venire a studiare qui? Sì, ormai io ho deciso, quindi io sono qui, lei non lo so. Anche io, sì, sì, con lei, insieme. Cosa vi è piaciuto di più di questa giornata? Insomma, il giro della... non me l'aspettavo così, sinceramente, a parte che appunto ne parlavo prima con un ragazzo e diceva che è luglio, quindi nel senso non c'è tanta gente, però io me l'aspettavo molto più, non so perché, però un po' più grande, più gente, nel tipo per passare devi spingere, così invece no, abbiamo fatto un giro molto tranquillo. Il complesso, la struttura vi è piaciuta? Sì, sì, poi ho detto che devono ampliarla, quindi aggiungeranno ancora strutture, laboratori, aule, quindi ho detto che vogliono fare simile ai collegi americani, quindi è una buona cosa. Un'esperienza diversa sarà. Eh sì, per noi che siamo appena usciti dal liceo, sì. Eh sì, per noi che siamo appena usciti dal liceo, sì.